bella raga buongiorno sono sempre io al cellone italiano sono mangiata la lasagna la lasagna che ha fatto la compagna mia la lasagna mi riporta al sapore del mare mi riporta all'odore del mare mi riporta a quando si faceva i grandi magnate infamia perché noi romani quando andavo al mare mangiamo altro che i rasagni i cannelloni i pomodoro di riso delle magnate proprio che la famiglia altro che comunque non se la portava mai la pasta ma ricordate si e vabbè che bottarga comunque al mare vi consiglio portate la lasagna i cannelloni i pomodoro di riso e portatevi tutta roba da casa io adesso vi saluto e mangio bella raga ciao